il verdicchio è nota per aver rilanciato le uve autoctone premio orgoglio machigiano nel mondo all'azienda vitivinicola Santa Barbara vedere il premio Stefano Antonucci che è il titolare premia il senatore Remigio Ceroni chiamiamo sul palco anche il sindaco di Monte Giuseppe Porti e Pasquale Ricci artista autore dell'opera che verrà donata allora Stefano Antonucci una grande azienda la vostra avete riscoperto, avete valorizzato le uve autoctone sembra già di sentire il profumo dei vostri vini di gustare i vostri aromi 45 ettari di vignette insomma una bella azienda grazie a voi siamo famosi in tutto il mondo buonasera a tutti scusate ma sono un po' emozionato perché io sono così, sono molto sensibile perciò dico grazie e grazie anche come annunciato tutti i miei presenessori ai miei grandi collaboratori io sono un'autodidatta del mio lavoro e faccio il vino del vivitore perché se io bevo molto faccio il vino per voi che bevete bene, grazie alla prossima allora brinderemo